Ci adattiamo a tutto perché nella vita bisogna adattarsi a tutto Non esce il caffè però Non esce perché non c'è la cialda Mi avete costretto a venire qui a mettermi qua A far vedere che io stavo a fare il caffè Ma non c'è la cialda, qui non c'è più nulla Finito Siamo chiusi Oggi ho letto un'altra cifra buttata lì Ma sinceramente con me non ha parlato nessuno Quindi è un po' difficile Se qualcuno vende ai giocatori Al doppio di Verratti per la metà Il Pescara non è che regala Verratti Quindi a parte che nessuno ce l'ha chiesto Ma se ce lo dovessero chiedere Verratti ha un prezzo sicuramente molto importante